Perfetto, penso che non ci sia tempo e tenga. È difficile sempre dirlo, nell'ultima esperienza che ho fatto, vi do una brutta notizia, dopo sette partite ero l'ultimo classifico. Però poi c'era anche l'aspetto positivo, che poi siamo arrivati fino alla finale playoff e abbiamo fatto un girone di ritorno a 44 punti. Non lo so, questi sono tempi difficili da poter valutare. L'unico aspetto positivo, l'unica cosa che so con certezza, è che in questo momento questi ragazzi mi hanno dato grandissima disponibilità e questo mi fa essere leggermente ottimista sui tempi, però è una domanda difficile.